Salve a tutti ragazzi, giovani e persone meno giovani. Io mi trovo qui in questa cantinola a produrre e stiamo lavorando per fare il vino fragola. Io sono Salvatore e guardate qua come la procedura del vino fragola, guardate, questo è il tornio, da qui si preme con quella gigiola a pressione, si preme e scende tutto il vino in questa cimella e poi lo travertiamo nelle botti, guardate, guardate com'è bello, guardate, adesso vi faccio vedere come si fa, adesso salgo qui sopra, questo è il tornio, guardate, ci sta questa levetta, la vedete? E' un meccanismo a pressione, a idraulico, a cosa idraulico? Io non devo fare altro che far scendere questi pistoni per far pressare sul tornio per far scendere l'uva, guardate così, questo man mano che io ne scendo diventa sempre più più pesante da tirare, questa manovella e quando è scesa questa qua la dobbiamo regolare per far restare la minaccia in questa cosa, poi dopo ho fatto questo, quindi aspettate, guardate un po', faccio un po' di pressione, faccio come scende di più, di più. Questa è tutta una roba, con sei bandi, senza niente, guardate, guardate, guardate come scende, guardate come scende, nei filtri e poi lo mettiamo, lo diremo con la fronte, guardate, questo è vino capo, questo stamattina si può trovare, qua dove lo vediamo, in questa cantina, guardate di quanto i bustini che abbiamo fatti, questo è vino espino, erbiano e cose, e ragazzi io sto facendo questo lavoro, sto da stamattina, e ho fatto anche altre cose, però che vi devo dire, comunque a fare il contadino è pesante, non dobbiamo fare, io facevo il barbiere, e però non lo voglio fare più perché, diciamo che mi sono scocciato, adesso facendo il contadino, sto aiutando un'amica a fare il vino, ecco fatto, guardate, aspettate, facciamo questa altra mano perché, voglio sempre fare questo, guardate, guardate, questo man mano diventa sempre pesante il vino, guardate, guardate, guardate che bello, guardate, il vino c'è sempre sicuro, parlare di che si finisce, se c'è sempre scato il vino vuol dire che una cosa fa bene, specialmente se è fatto bene, senza mettergli niente dentro, tutta naturale, ok ragazzi, adesso concludo questo video, spero che vi sia piaciuto il video, se mi piace mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale, ciao! Alla prossima! Ciao! Grazie.